E allora vale, iniziamo come sempre con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande compositore pianista, definito il poeta del pianoforte. Il 22 febbraio del 1810 nasceva Frédéric Chopin. Chopin nacque a Zelazzovavola, uno stato polacco istituito da Napoleone Bonaparte. Il padre di Frédéric, Nicolas Chopin, era un francese originario di Marneville, emigrato in Polonia nel 1787 all'età di 16 anni. Papà Nicolas accettò inizialmente un semplice impiego da contabile, lo scopo di imparare bene il polacco e il tedesco. E nel 1806 conobbe Justine, una giovane impiegata, come dama di compagnia. I due giovani si sposarono e andarono a vivere a Varsavia. In seguito la famiglia si trasferì a Zelazzovavola, dove nacque Frédéric, che fu il secondo figlio della coppia e l'unico maschio. Intorno all'età di 9-10 anni, Frédéric iniziò a soffrire di una tosse incessabile, che lo accompagnò per tutta la sua vita. Dopo aver avuto le sue prime lezioni di pianoforte da sua mamma, per la notevole predisposizione mostrata, ebbe necessità di trovare un insegnante professionista. Fin dalla tenera età, Frédéric si dimostrò un grande genio. E infatti, dall'età di 7 anni, iniziò i suoi primi concerti in pubblico. Pensate, non sapeva scrivere ancora la musica e compose la sua prima polacca in sol minore, e lo scrisse su carta il suo maestro. Dopo 5 anni, il maestro di Frédéric dovette dire al suo papà che non sapeva più cosa insegnare. Durante tutto questo periodo, continuò sempre con i concerti nei salotti di Varsavia e nei teatri, suonando anche spesso per beneficenza. A seguito di ripetuti successi, gli arrivò un invito per un concerto davanti allo Zara Alessandro I. Lo Zara lo premiò con un anello di diamanti. Lo Zara lo premiò che non sapeva più cosa insegnare. Lo Zara lo premiò che non sapeva più cosa insegnare. Nel 1826, terminato gli studi di liceo, il giovane Frédéric Chopin ebbe il permesso dal padre per potersi dedicare unicamente alla musica. Nel 1829 fu attratto da una giovane studentessa di canto, allieva di Carlo Soliva, al conservatorio di Varsavia. Chopin non si dichiarò mai alla giovane, o forse non riuscì a farlo, e quando partì per Vienna nel 1830, ebbe da lei in dono un nastro. Continuò a pensare a lei, mandandole un biglietto tramite un amico. Dopo aver completato i suoi studi presso il conservatorio di Varsavia, fece il suo debutto a Vienna, dove diede due concerti per pianoforte, ricevendo molte recensioni favorevoli. I successi di Chopin, sia come compositore che esecutore, gli aprirono le porte dell'Europa occidentale, però Chopin dal 1800 ancora ad oggi fa sognare noi pianisti di musica classica, e sarà così per sempre. Frédéric Chopin, dal cuore tenero e dall'animo buono, muore a Parigi il 17 ottobre del 1849, alle due del mattino. Venne prelevato il suo cuore e fu racchiuso in un'urna d'argento. Fu in seguito portato a Varsavia e posto nella chiesa di Santa Croce. Il compositore fu seppellito a Parigi. Sulla tomba venne sparsa la terra polacca che lui amava tanto. Era stata mandata dentro una coppa da una famiglia sul suggerimento della Stirling. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Un caro abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!